Buonasera, sono Angelo D'Angelo, capitano dell'US Avellino 1912. Mancherò in una partita molto importante come il derby di Sanità Avellino di domenica perché ancora devo scontare un turno di squalifica. Però ci tengo a testimonare il fatto che l'US Avellino, come squale, come capitano, sosteniamo il passaporto ematico e chi mi sostituirà, non so se Matteo Ordemagni o Gigi Calstaldo, che sono sulla carta comunque i miei vicecapitani, indosseranno questa splendida fascia in onore del passaporto ematico, in onore di Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini e Flaio Falzetti. Ci tengo a che loro indossino questa fascia perché tutti noi qui dell'US Avellino ci teniamo e sosteniamo questo progetto molto importante che è il passaporto ematico, la fondazione Fioravanti per il Polito. Ciao, domenica in occasione del derby Salernita-Navellino indosserò questa fascia del passaporto ematico in memoria di Fortunato, Falsetti e Morosini. Grazie.